vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci dico al ministro di maio deve continuare anche in modo diplomatico a fare pressione sullo stato francese affinché questa moneta viene abolita perché finché questa moneta sarà in vigore tutti discorsi che farete di aiutiamo l'africa questo o quest'altro sono solo prese in giro starete solo a prendere in giro il popolo italiano e i popoli occidentali perché come davo come esempio prima un vaso buccato puoi mettere tutta l'acqua che vuoi dentro non si riempirà mai questa è la situazione reale quindi è tempo di fare pressione sull'erogarchia criminale francese per fare finire questo crimine contro l'umanità intanto io aspetto per vedere quale sarà la reazione della corte penale internazionale e dopo di che mi rivolgerò alle nazioni unite non vi dico cosa in mente ora però sulla corte penale internazionale non farà il suo lavoro io so quali saranno i prossimi passi che farò ognuno deve mettere dietro la sua persona dietro il suo ego e lottare per il futuro di questo paese non vi dico che farò